Chiediamo innanzitutto un rinvio dell'applicazione del nuovo nomenclatore tariffario, in virtù delle considerazioni ormai condivise da tutti che queste nuove tariffe sono totalmente inadeguate al sostenimento di costi di produzione e di gestione delle strutture sanitarie pubbliche e private. Quindi questo determinerebbe un collasso totale dell'assistenza territoriale specialistica per tutti i cittadini italiani e quindi non è assolutamente sostenibile, non è accettabile che dal 1 aprile si metta in vigore questa manovra che veramente metterebbe in crisi tutto il sistema sanitario nazionale. Noi quindi chiediamo semplicemente una sospensione, una proroga fino almeno alla fine di quest'anno per far sì che il tavolo tecnico si rimetta a lavorare seriamente in maniera approfondita e dettagliata per rideterminare in maniera specifica costi di produzione e costi generali in modo tale da arrivare a una tariffa che sia una tariffa sostenibile sia per gli erogatori privati accreditati sia per gli erogatori pubblici perché la stessa tariffa che il Ministero emette vale sia per il pubblico che per il privato. Quindi le conseguenze sarebbero assolutamente nefaste per entrambi i settori con alla fine chi ci rimette è sempre il solito cittadino che avrà serie difficoltà ad accedere alle prestazioni sanitarie.